Buongiorno, sono Leonardo Basso, funzionario tecnico commerciale di AVE per la zona del nord-est. Siamo qui in fiera Home Building a Verona anche per presentare una novità che al momento siamo gli unici a cui puntiamo fortemente, che sono le placche ecocompatibili. Sono placche in grass porcellanato, per cui comunque molto resistenti, abbinabili sia ai comandi a sfioro nostri che alle placche tradizionali per le prese. Fanno parte della linea ecocompatibile proprio perché sono un prodotto naturale derivando dall'argilla, cosa che a Zeguaglia Altraplastica ovviamente non è. Si abbinano poi al sistema che stiamo portando avanti di ecocompatibilità e di scolio energetico all'interno della struttura proprio perché hanno delle peculiarità particolari, come una guarnizione in silicone sul retro della placca per mantenere l'isolamento sia termico che acustico. L'abbinamento ad un'ulteriore guaina dedicata ed esclusivamente prodotta da noi come brevetto per la certificazione Casa Clima, per passare il blover door test. È un prodotto che nessun altro ha attualmente in commercio e ci permette di staccarci di più dalla massa, non solo con i prodotti tecnologici nostri come magari la domotica o la gestione alberghiera, ma anche nel civile tradizionale. Ave è la prima azienda che è nata in Italia nel settore nel 1904, fondata a Vestone nell'alta Val Sabbia e la proprietà dell'azienda è rimasta sempre in mano alla famiglia Belli. Attualmente abbiamo la quinta generazione di famiglia che sta portando avanti l'azienda e con ottimi risultati, anche perché permette a noi esterni di rapportarci direttamente con la proprietà. Non con un capo aria, poi con un direttore, poi forse chissà. Non ci sono problemi, si parla direttamente con la proprietà. Partiamo dallo scatolame, per cui la parte all'interno del muro, la parte frutti e la parte tecnologica, ovviamente all'interno dei frutti, che possono essere oltre alle prese tradizionali, anche i comandi a sfioro della serie tradizionale, la domotica, la gestione alberghiera, la parte modulare, quindi interruttori magnetotermici, automatici, differenziali, la gamma antifurto e la gamma antincendio. Comprendiamo per cui tutto quello che riguarda un impianto elettrico, a parte tubo e filo. Abbiamo la divisione estera che segue vari mercati, sia con delle linee di produzione, sia anche proprio con le filiali commerciali in Europa, Medio Oriente, Asia e Sud America. Chi è interessato a un prodotto particolare, sia da parte di vista tecnologica che dell'eco-compatibilità, qui prova tutti i prodotti. Noi abbiamo investito molto come energie e come stand per portare delle novità importanti in un mercato che, sappiamo tutti, è quello che è all'esterno. Però se c'è motivazione qualcosa si riesce ad andare fuori.